Gli svizzeri mi stanno aspettando. Non posso farli attendere sul ghiacciare. Coraggio, cominciamo. Vostro professore ha definito che i cadaveri appartiene a vostra nazione. Chissà cosa cercava su di là. Sarà come il guerriero della Val Venosta. Sì, signor sindaco, sono arrivati. No, no, soltanto gli italiani. Gli svizzeri non si sono ancora visti. Forse abbiamo l'arma del delitto. Può servire. Libri. L'uomo non è morto sul ghiacciare. Ma almeno è antico. Questo vediamo dopo. Quindi vuol dire che è morto dopo il 45, prima del 1986. Ora è 19 e 15. Sentiamo lontanissime grida di aiuto.